Un piatto tradizionale turkmeno cuoce sotto sabbia rovente e bracci. Si chiama ishlekli, pasticcio di carne dei pastori. È uno dei piatti che si distinguono da altri dell'Asia centrale per il metodo in cui viene cucinato. Nell'antichità i turkmeni impararono a sfruttare le condizioni meteorologiche avverse in cui vivevano per preparare il cibo e così per cucinare l'ishlekli non c'è bisogno di pentole, solo di sole e sabbia. I turkmeni erano nomadi, non potevano portare piatti con loro, allora cucinavano questo pasticcio nel deserto e usavano solo vassoi, coltelli, carne e farina. Uno stile di vita nomade e temperature che in estate raggiungevano i 40-50 gradi centigradi non potevano non avere un effetto sulla cucina turkmena. Si trasportavano solo ingredienti in grado di resistere a un lungo viaggio senza deteriorarsi. Verdura e frutta erano quindi ridotte al minimo mentre c'era abbondanza di pane e cereali. I nostri antenati cucinavano soprattutto carne e pane ma usavano solo impasti non lievitati. Naturalmente oggi i turkmeni usano forni e cucine moderne per cucinare i loro piatti tradizionali ma una festività può essere l'occasione di rispolverare tecniche antiche.